Peace and love everybody! Benvenuti o bentornati in un nuovissimo video! In questo video, come avete letto dal titolo, faremo insieme la mia valigia per una settimana al mare. E quindi il primo consiglio che vi do è quello di scrivervi una lista con tutto l'occorrente. Io ad esempio ho scritto anche alcune cose che pensavo di portare, ma in realtà alla fine ho deciso che non le porterò più. Comunque una lista molto precisa su cosa portare e poi fare degli asterischi, ad esempio qua ho scritto partenza, delle cose con cui voglio partire e poi degli asterischi sulle cose che voglio mettermi nella mia bohersa bar zaino da viaggio. Comunque divisa per categorie, abbinamento, mare, accessori, bagno, quindi comprende anche la skin care, make up, altro e punto partenza. Altro passaggio fondamentale è tirare fuori tutto quello che pensate di portare per farvi un'idea e metterla o sul letto o sul pavimento, per esempio. Io ho messo tutto sul letto, ora piegherò tutto e spunterò le cose dalla lista. Ciao! 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 Al prossimo episodio Così risparmiate un sacco di spazio in valigia e non dovete pensare troppo cosa mettervi ad esempio la sera che è il momento in cui si esce e questa cosa secondo me è utilissima infatti questo è tutto l'abbigliamento che io porto per una settimana quindi un paio di pantaloncini verdi così che sono un po' più morbidi perché partirò con i pantaloncini di jeans poi il pigiama un paio di pantaloni lunghi ho scelto questi in lino perché sono super leggeri e molto particolari poi tre top uno nero uno blu uno bianco perché servirà un po' con tutti sono sbracciati quindi sono perfetti per l'estate una maglietta a maniche lunghe una camicetta sempre in lino perché fa respirare una t-shirt e un vestitino perché per una sera un po' più particolare ci sta benissimo e poi una gonna lunga magari posso sembrare per alcuni tanti capi per altri posso sembrare pochi capi non lo so comunque questo è tutto il mio abbigliamento poi qua ho i miei costumi che sono quattro e con uno di questi costumi partirò quindi o con questo o con questo devo ancora decidere e poi mi sono comprata uno slip vita alta nero da binare un po' con tutti i costumi ma principalmente con questo perché ha uno slip molto molto a vita bassa e quindi se la pancia è un po' più gonfia comunque questo è sempre comodo poi un paio di pantaloncini costume perché non si sta mai e degli occhialini poi questo sarà il mio beauty principale che è quello che porto sempre durante i viaggi nel quale metterò tutti i prodotti per la skin care il bagno quindi anche l'olio solare eccetera e poi qua dentro ci metto sempre i trucchi ed è molto molto comoda infatti adesso andiamo a riempirla insieme questi sono i gioielli che ho deciso di portare se si sembrano più gioielli che vestiti ho due orologi una collana che una è oro e un argento una collana oro e indosso una collana argento tre braccialetti due argento e uno oro tutto bello perché ne voglio portare anche un altro dorato però si potrebbe un po' ingrovigliare quindi deciso di no due paio di orecchini uno argento e uno oro e quest'oro togliendo le palline può diventare anche un altro paio di orecchini totalmente diverso degli anelli argento e degli anelli oro e basta invece per quanto riguarda il make up ho portato questa profettina per le sopracciglia il mascara per le sopracciglia due mascara per gli occhi una matita nera un eyeliner il pennellino per le liner il pennellino per le sopracciglia e un pennello per l'ombretto che porterò questa paletta qui che potrà usare anche mia sorella che è molto bella ed è la Vintage Vibes di Cosmify per Gaia e Martina Basic Gaia e Marti Dreamix molto bella questa paletta mi piace tantissimo e posso crearci molti look poi le mie tre fasce cioè tra tutte le mie fasce ho scelto queste tre perché si possono abbinare un po' con tutto poi dentro qui ho messo un po' del mio profumo ovviamente i miei gioielli li metterò in una pochette a parte che dopo vi farò vedere quali per quanto riguarda invece il beauty in sé porterò il mio olio di mandorle dolci dei provenziali che utilizzerò sia come dopo sole quindi su tutto il corpo sia come olio viso invece come freghe crema solare che usiamo in realtà tutti questa qua del Selunga che è un olio solare a spray ed ha una protezione 20 poi la spugna di cognac, la saponetta per il viso, un dischetto riutilizzabile che può sempre servire due smalti, in realtà uno lo metterò oggi e poi due asciugamanini e due cose che ovviamente non ho ancora messo ovvero lo spazzolino e il dentifricio perfetto così è il beauty qua mi si è notta la zip quindi con una molletta o comunque dopo cambio la molletta ovviamente cercherò di chiuderlo e niente così, comodissimo c'è ancora spazio quindi si può schiacciare ed è perfetto altre cose che ho aggiunto sono l'intimo, le calze, una cintura una cuffia che in realtà credo che non porterò, sono un po' indecisa e questa cintura bianca è molto molto bella, me l'ha fatta mia mamma piace tantissimo e poi portando delle scarpe bianche ci sta benissimo e poi accappatoio, asciugamanino e turbanti per i capelli e sia accappatoio che l'asciugamanino sono di microfibra a parte perché sono quelli che ho, che possiego però sono anche comodi perché occupano pochissimo spazio e poi mi porterò anche un cappellino per il sole poi un ombrellino che può sempre servire ventale, portafoglio, la mia pochette, barracchetta d'emergenza poi dovrò ancora mettere occhiali da sole, occhiali da vista delle borse questa qui che ho fatto mia nonna questa con gli elefanti che ho preso l'anno scorso e una piccola nera che in realtà sono molto decisa se portarla o meno e poi la borsa per il mare che è questa qui dentro ci ho già messo l'asciugamanino per il mare e un sacchettino da tenere in spiaggia e quest'anno partendo molto presto arriveremo in spiaggia per le 9, 9 e mezza sperando che non ci sia traffico e quindi non posso partire ad esempio con una di queste borsa perché in spiaggia si sporcherebbero troppo quindi andiamo a partire con il costume e tutte le cose per la spiaggia e perciò direttamente con questa borsa qui che ha un colore spettacolare detto ciò direi di mettere tutto in valigia questa è tutta la roba non è eccessiva dopo vi mostro anche le scarpe questa qui è la mia valigia ed è dell'American Tourist come marca è un bagaglio a mano quindi è perfetto per i viaggi per l'aereo ed è fatta così a due selezioni questa con la zip dove di solito mettevo le cose per la spiaggia e questa qui così un po' più grossa ma comunque molto molto carina ed è abbastanza capiente sotto metterò l'accappatoio il sugamanino il turbante adesso vedrete un po' comunque come sistemo tutto e qui invece credo che metterò la borsa le borse e le scarpe valisa conclusa alla fine le scarpe devo per forza metterle così io so che non è la cosa più igienica del mondo ma ho un numero troppo grosso diciamo per la valigia tanto qua ci sono solo due borse e ho tolto questa nera visto che ero un po' indecisa e niente così si chiude e ora vi faccio vedere tutta chiusa ok come vedete la zips è chiusa alla perfezione qui c'è tutta la mia roba in realtà i vestiti non sono tantissimi come avete visto ma più che altro questo beauty occupa veramente tanto spazio ed è così ora vi faccio vedere cosa che metto nella borsa mare come vi ho detto questa è la mia borsa mare ed è così ho questo asciugamanone che va messo sulla sdraio questo sacchettino perché non si sa mai poi per esempio le cose bagnate o di oggetti questo asciugamanone invece per asciugarmi occhialini ventaglio cuffia kit di emergenza pantaloncini costume e libro da leggere questo qua sarà il libro della mia vacanza ovvero la ragazza del sole di Lucinda Raleigh ed è il sesto libro delle sette sorelle ed è il più grosso veramente gigante infatti non sono sicura se riuscirò veramente a finirlo durante la settimana però comunque mi porto questo e lo metterò qua dentro e poi qui mancano gli occhiali da sole e basta una cosa che non vi ho mostrato sono le cose elettroniche come ovviamente il telefono che terrò in mano e poi il caricatore del telefono che metterò alla fine e invece questo è il mio outfit per partire quindi questa super camiciora qui molto bella che è il mio copricostume un po' di pantaloncini di jeans il costume e queste ciabattine che utilizzo per la spiaggia questo outfit in realtà molto simile a parte il costume l'avete visto nel video in cui creiamo insieme otto stili ecco qui tutta la mia roba come vedete la valigia si è chiusa senza problemi qua c'è la borsa male il cappellino e niente eccola qui altro consiglio che vi do è quello di creare già degli outfit soprattutto se non sapete mai bene cosa portarvi oltre a portarvi poca roba ma che si abbina un po' tutta tra di sé un altro consiglio molto utile appunto crearsi già dei look e detto questo questo è tutto il video di come io preparo la mia valigia spero che vi sia piaciuto soprattutto che vi sia stato utile se è così e se vi va potete mettere un bel pollice in su iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video che escono ogni domenica e ci vediamo domenica prossima con un nuovissimo video buone vacanze ciao 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 ciao